Quella che vi vogliamo raccontare oggi tra le tante storie è la storia di una vita luminosa, di una giovane nata e cresciuta a latte e fede, Chiara Luce Badano, la vedete qui alle mie spalle in questa splendida foto, che nasce il 29 ottobre, proprio oggi, del 1971. Una giovane ricca di talenti e a nove anni aderisce al Movimento dei Focolari, fondato da Chiara Lubi, che lì scoprirà Dio come amore e ne farà il suo ideale di vita. A 17 anni incontra la malattia, un terribile tumore che affronterà però affidandosi completamente al Signore, anche nei momenti più difficili. Morirà il 7 ottobre del 1990 e le sue ultime parole rivolte a mamma Maria Teresa sono state, si felice perché io lo sono. È stata proclamata beata il 2010 e abbiamo deciso di ricordarla oggi, nel giorno della sua festa liturgica. E per ricordarla abbiamo scelto di collegarci con Franz Coriasco, biografo e amico di Chiara Luce Badano. Buon pomeriggio Franz, benvenuto. Ciao a tutti, ciao a tutti, grazie dell'invito. Grazie a te per averlo accolto. Eccoci. Allora, Franz, Chiara era la migliore amica di tua sorella Chicca. Per te, 13 anni più o meno più grande di Chiara, chi era questa ragazza per te? Guarda, inizialmente era semplicemente la migliore amica della mia sorella minore e quindi tendevo a considerarla come consideravo Chicca, cioè una mocciosa da tenere alla larga. Io avevo qualche anno un po' più di loro e quindi le sentivo come delle bimbette, un po' come dire, non dico degli intralci, ma insomma persone non così rilevanti. E devo dire che questo sentimento era ribaltato, se lo guardiamo dal punto di vista degli occhi di Chiara, che mi considerava invece nella sua logica di ragazzina una persona importante perché già mi occupavo di musica, avevo fatto un disco, scrivevo articoli su grandi artisti, alcuni conoscevo. Insomma, per lei ero non solo il fratello di Chicca, ma Franz Coriasco. E di questa, a me piace ricordarlo sempre, è stata la prima delle miliardi di lezioni che Chiara mi ha dato nella vita, insomma, perché sono passati alcuni decenni da quei giorni e se andate a vedere su internet, digitate Chiara Vadano o Franz Coriasco e si capisce subito chi era quello importante. Ecco, però dico questo perché una delle cose che Chiara mi ha insegnato, non è che le abbia imparato benissimo, però me le ha insegnate e credo che siano profondamente vere, è che non esistono persone o situazioni più importanti di altre. Non esiste una vita di serie A dove ci fanno certe cose, una di serie B, che sono quelle più banali. In realtà c'è un unicum, lei lo vedeva così, attraversato la vita veramente da specialista in questo campo, prendendo ogni attimo che la vita gli concedeva come un momento da vivere al meglio, a prescindere dal fatto che si sia magari malati terminali come è stato o semplicemente una studentessa di ginnasio come era prima della malattia. Franz, Chiara era una ragazza essenziale di poche parole ma che aveva un grande dono, quello dell'ascolto. Infatti anche sempre, soprattutto poi anche negli ultimi giorni della sua esistenza, chiedeva sempre all'altro dimmi di te, è così? Guarda, ti posso dire una cosa, nella mia ormai abbastanza lunghetta vita, ho avuto modo di incontrare tante persone davvero anche straordinarie, centinaia se non migliaia e devo dire che Chiara, forse l'unica altra persona che mi viene da ricordare in questo senso è stata madre Teresa di Calcutto, aveva una capacità di ascolto assolutamente speciale, cioè persone che non è che si mettono e gli dicono vabbè dimmi la tua che poi ti dico la mia, erano persone capaci di sparire o come delle spugne di assorbire tutto ciò che avevi da dire a loro, di mettersi da parte ma restando presenti. Questa è veramente una delle sue più grandi specialità che poi ha dei risvolti veramente concreti perché quando si andava da lei sentivi di poter dire tutto e di avere una persona che era lì per te e la cosa speciale di Chiara è che questa cosa la faceva anche nei momenti più difficili della sua malattia. Quando si andava da lei la prima cosa che veniva naturale chiedergli era ma Chiara come stai, come è andato l'ultimo esame, diceva due parole proprio come se la malattia fosse fatto collaterale, diceva sì vabbè ho fatto questo però tu come stai, come è andata, cosa stai facendo, come va il tuo lavoro e l'amore e capisci? Questo era Chiara. È molto bello quello che racconti di Chiara Luce, Franz. Hai citato appunto il fatto che quando la si andava a trovare soprattutto nell'ultimo periodo, quello più tosto, quello più difficile della malattia, quando si stava nella stanza con Chiara, poi tornando a casa, che sensazioni si provavano? Guarda, alcune cose. Intanto bisogna subito fare chiarezza su un punto. Quando si stava con lei non ti passava neanche dall'anticamera del cervello e questo valeva per chi come me non era credente e a maggior ragione per i credenti, non pensavi, non ti veniva proprio da pensare a lei come poverina, mamma mia nel fiore negli anni, guarda che terribile malattia gli è arrivata, la vita è ingiusta. Non ti veniva da fare questi pensieri perché Chiara era una ragazza felice, realizzata, ma non perché te lo diceva, perché glielo vedevi negli occhi. Tant'è che una delle riflessioni che a me veniva ogni tanto era qual è il prezzo per essere così felice? Devo perdere l'uso delle gambe? E ti veniva da dire ok, d'accordo, perché non mi interessa vincere le Olimpiadi da persone infelici. A me interessa, come tutti gli altri, cercare di essere felice compatibilmente con quello che è l'ostrazio dell'esistere che la vita si porta appresso, però certamente la felicità è una cosa a cui tutti noi ci piacerebbe averla a tempo pieno. Ecco, Chiara lo era, lo era e lo dimostrava e quindi non si provava questo senso, tanto per cominciare. Dopodiché, mi piace ricordare questo libro che è l'ultimo che la riguarda, che abbiamo scritto insieme, insomma, con tutta la fondazione Chiara Badano, che è nel mio stare Il vostro andare. Esatto, ed è il libro, perché lo cito e non cito i miei o altri, perché lì c'è veramente lei che parla, no? E ci sono delle frasi a volte veramente molto forti, perché alcuni passaggi, verrebbe da dire, quasi scioccanti, quasi di una pazza. A volte mi chiedevo qual è la differenza tra un malato di mente e un santo e a volte le differenze mi sembravano sfumate, no? E poi però si usciva da quella stanza, si tornava a casa e già tornando a casa, a me ogni tanto mi veniva questo pensiero e dicevi, ma guarda che i matti, i matti siamo noi, perché ovviamente lasciavi questo clima straordinario, mi verrebbe da dire veramente di cielo, anche per un non credente, comunque con una sua sacralità intrinseca che era quella stanza, e poi uscivi da lì e ti ritrovavi addosso lo tsunami del mondo, no? Con tutti i suoi deliri, con le sue follie, con il suo rincorrere delle sciocchezze, ecco. E quindi ti veniva da dire, ti veniva voglia di tornare là dove c'era un modo di vivere che sembrava normale, che i matti fossimo noi, no? Come se fossi di nuovo sbarcato su un pianeta alieno fatto di sciocchezze, mentre la vita vera era dall'altra parte, nella mansarda di Chiara. Franz, da Franz Coriasco, hai mai avuto la percezione della santità di Chiara che fosse destinata a qualcos'altro, o meglio, a qualcosa di alto, ecco, diciamo così? Guarda, ti dico sinceramente no. Certamente era un'impressione mia, ma anche di tanti, con i quali abbiamo condiviso dei piccoli pezzetti di vita, io peraltro da una posizione abbastanza marginale, come vi dicevo all'inizio, no? Però sinceramente, anche quando è arrivata la malattia, sentivamo lo strazio di dover lasciare questa persona così a suo modo speciale. Ma era speciale, Chiara, nella normalità. Non è che facesse cose da lasciarti allibito. Semplicemente la sua specialità era una specialità di tipo, mi verrebbe da dire, Mariano, cioè quasi sotterraneo. Quando c'era, non te ne accorgevi. Era quando poi non c'era e non c'è stata più, che capivi meglio la sua grandezza, quello che è stato e quello che ci ha lasciato. Aggiungo anche questa cosa. Io ho conosciuto anche tante sante persone che sono morte anche in maniera molto santa. Come Chiara, tutto sommato, qual è stata la differenza? È che quando si perde una persona cara, ti resta il ricordo, mediamente, no? Anche molto dolce di certi momenti trascorsi insieme e quant'altro. Con Chiara, in maniera assolutamente misteriosa, che ancora io non mi so spiegare, d'agnostico qual sono, non è un ricordo, Chiara. Per me, ma per tanti. È più una presenza. Anche se è una presenza che non si può rendere con parole o far capire. Ma è qualcuno che c'è, che c'è nella mia vita e mi accorgo, ovviamente c'è nella vita di mia sorella Chica, c'è nella vita della sua mamma, così come era in quella di Ruggero finché è stato insieme a noi, no? Però man mano che passava il tempo, questo senso di presenza si allargava a tante persone che magari non l'avevano neanche conosciuta, minimamente, no? E quindi diveniva una cosa di tanti, di tantissime persone, per la quale era sì un modello più, in un certo senso, anche una guida spirituale, no? Per tanti giovani lo è ancora oggi, no? Però è un qualcosa di più. E per molti credenti è la sorella che ti guida, che ti accompagna, con la quale puoi parlare e mettergli in grembo nelle orecchie tutte le tue oscurità di quel momento, no? E ti chiedi, ma cosa farebbe Chiara in questo momento se fosse qui? E cerchi un'ispirazione. Franz, ci regali un riferimento al vostro ultimo incontro, alle parole che Chiara ti ha detto? Sì, Chiara era già molto malata, sarebbe morta dopo un paio di mesi, era immobilizzata a letto. E una cosa singolare, insomma, della nostra vicenda comune è che lei sostanzialmente ha iniziato ad ammalarsi mentre io perdevo la fede. Quindi, quando io sono andato a trovarla, non sapevo che sarebbe stata l'ultima volta, ho fatto come tutte le volte in quel periodo lì, con chiunque incontrassi, compresa lei, ho fatto, naturalmente, Chiara come stai? E Chiara mi ha liquidato in due parole, poi mi ha detto, ma tu Franz, come stai? E io gli ho detto tutta la catastrofe che era la mia vita in quel momento, una serie di problemi giganteschi sul lavoro, una relazione sentimentale che era ormai conclusa e che mi aveva lasciato delle ferite grandissime e poi questo rapporto con Dio evaporato e che quindi mi faceva sentire da una parte orfano dall'altra fortemente arrabbiato anche con l'idea di Lui. E ho continuato a raccontare, a raccontare Chiara naturalmente, come ti dicevo, era un'olimpionica dell'ascolto, mi è stata ad ascoltare senza interrompermi, ma veramente facendo sue tutte le mie sofferenze di quel momento. Insomma, mi ha fatto vuotare completamente il sacco e poi mi dice, ma non ti preoccupare Franz, quando sarò in paradiso, ci penserò io a te. Mi ha lasciato basito questa frase anche perché dopo tutto quello che gli avevo detto sulla mia non-fede, dicevo, vabbè, te ne vieni fuori col paradiso. Tant'è che sulle prime, se non ricordo male, gli ho detto semplicemente, vabbè, dite tutti così, poi sparite e buonanotte al secchio. E Chiara, che aveva questo suo sorriso veramente speciale, sempre addosso, a quel punto lo ha tolto e si è fatta molto seria, perché era una persona anche capace di dolcezza, ma anche di grande determinazione, Chiara. E a quel punto ha detto, senti Franz, se ti ho detto che ci penso io, stai tranquillo, ci penso io. E appunto, è l'ultima volta che ci siamo visti. Questa cosa io me la sono ricordata al giorno del suo funerale e proprio durante l'inumazione, diciamo, ho seguito questa cerimonia dove c'erano veramente tantissime persone in un angolino appoggiato a una cappellina laterale e mi è venuto veramente di guardare l'orologio e dire, allora, finito il trasloco, tutto bene? No, perché mi avresti fatto una promessina, adesso io qui ho una lista lunga da qui in Giamaica di cose che adesso che c'hai i superpoteri potresti fare per me e vediamo un po' cosa sai fare, ragazza mia. E naturalmente non è successo niente, ma non quel giorno, neanche le settimane seguenti, mesi, gli anni, così tanti anni per cui io di questa cosa me ne ero praticamente dimenticato. L'ho ritrovata poi quando mi è stato chiesto di scrivere la mia biografia di Chiara e andando a rivedere i miei diari di quegli anni ho ritrovato proprio questa scena che mi ero appuntato quella sera tornando a casa. Però erano passati già più di vent'anni da quella sua promessa e guardando vent'anni dopo la mia vita mi accorgevo che in effetti la stava rispettando quella promessa perché in tante occasioni si è occupata di me in maniera molto concreta e continuo a farlo ancora oggi magari non nei modi e nei tempi che uno si aspetterebbe, però in questo senso ti confermo quello che dicevo prima anche in questo Chiara per me è una presenza anche se ho imparato a non chiederle cose concrete anche perché comincio a sospettare che se usiste un al di là i parametri e le priorità siano alte rispetto alle nostre. L'importante è che continui a farmi sentire la sua presenza la sua vicinanza in qualunque modo ritiene opportuno. Ecco, a volte guarda oggi pomeriggio lei amava moltissimo le farfalle e mi stavo dimenticando di questo collegamento che dovevamo fare e è apparsa una farfallina sul mio balcone e mi sembrava veramente che fosse lei a dire mi raccomando Francia e non dire troppo scecchezze. È stato il tuo promemoria. Grazie, insomma. Francia, tu fai parte anche della fondazione intitolata Chiara Luce Badano vogliamo ricordare il sito e anche la mail per chiunque volesse conoscere qualcosa in più della storia questa storia luminosa di fede di Chiara Luce e naturalmente anche per raccontare la propria storia. Certamente. Allora, il sito è semplicemente chiarabadano.org e per chi volesse scrivere mettersi in relazione o qualunque cosa e l'indirizzo mail è fondazione chiocciola chiarabadano.org anche per prenotare per chi lo volesse delle delle capatine a Sassello o visitare la la mansarda o i luoghi di Chiara insomma c'è tutta un'organizzazione di di volontari che veramente preziosissimi che aiutano laddove noi direttamente della fondazione non possiamo non possiamo intervenire a questo proposito se mi consenti nel sito ci sono ovviamente un sacco di notizie di informazioni anche dei posti dove Chiara è diffusa nel mondo e veramente al di là di noi ha attraversato gli oceani noi abbiamo due premi annuali uno è un premio diciamo di natura artistica aperta ai giovani ma quest'anno lanciamo un nuovo premio una nuova iniziativa che si chiama Solidarity ed è sostanzialmente vorremmo premiare dei progetti creati appunto per chi vuol fare del bene concretamente o nel proprio ambito o con iniziative di solidarietà internazionali questo a prescindere perché era sicuramente una delle cose che ha caratterizzato tutta la vita di Chiara e sul sito si possono trovare tutte le informazioni il band e quant'altro bene grazie anche per questa aggiunta grazie Franz Coriasco per essere stato con noi biografo e amico di Chiara Luce Badano grazie ancora grazie a voi e noi ci fermiamo qualche istante andiamo in pubblicità e poi torneremo insieme con un'altra storia straordinaria quella non vi anticipo nulla è raccontata in questo libro e avremo il suo protagonista a raccontarcelo state con noi al sabato del convento grazie a tutti